Ultimati i lavori di restauro del monumento ai caduti di Piazza Italia e in queste ore, come documentato dalle prime immagini, i dipendenti dell'impresa che ha effettuato gli interventi stanno provvedendo a smontare il cantiere, tanto da rendere visibile anche la lapide in marmo che riporta i nomi degli altri 132 caduti leccesi da aggiungere agli 802 già presenti. A dare manforte gli operatori Montego che stanno provvedendo a rimuovere cumuli e cumuli di rifiuti abbandonati per mesi nell'area, divenuta dimora per senza tetto e non solo. Residenti e commercianti tirano un sospiro di sollievo e sperano, sperano che adesso questo luogo, patrimonio storico della prima guerra mondiale, non continui ad essere abbandonato a se stesso. È quello che ci auguriamo tutti, noi cittadini, per non vedere più questo scempio di una bella realtà, purtroppo. È così. Lo si spera, lo si spera sia per noi che per chi viene a visitarci. Speriamo che tutto cambi nel meglio. Negli ultimi mesi, come denunciato più volte proprio da Telerama, tanti gli episodi di violenza che si sono verificati in Piazza Italia, con risse, aggressioni e minacce ai residenti dei vicini palazzi, oltre che ai commercianti, tanto che in più di un'occasione sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Ci è voluto un po' di tempo, anche forse un po' troppo. Speriamo che finalmente diano di nuovo valore a questo monumento, che è comunque al centro della città. Speriamo che ci siano anche più controlli, visto che ultimamente si è lasciato un po' andare sotto tanti punti di vista.